Nell'ambito di un'indagine diretta dalla Procura della Repubblica verso il Tribunale di Napoli Nord, i carabinieri della Compagnia di Casoria e dell'Associazione di Casavatore hanno dato esecuzione ad un decreto di fermo emesso dalla Procura della Repubblica nei confronti di tre soggetti, in quanto gravemente indiziati dei delitti di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di rapine aggravate, di rapina consumata e di svariate tentate rapine. Le indagini delegate alla sezione operativa della Compagnia Carabinieri di Casoria, congiuntamente con i militari della Stazione Carabinieri di Casavatore ed originate dalla rapina avvenuta nel ristorante Un Posto al Sole di Casavatore in data 9 ottobre, hanno consentito di accettare, oltre che i presunti responsabili della presetta rapina, l'esistenza di una vera e propria organizzazione stabile, dedita alla commissione di rapine, anche mediante uso di armi da guerra. I soggetti fermati nel giro di pochi giorni avevano organizzato diverse ulteriori rapine, tutte sventate grazie alla massiccia presenza di personale dell'arma dei carabinieri sul territorio.